Vorrei ringraziare tutti i professori e tutte le persone che comunque ci hanno seguito e ci hanno voluto bene perché veramente sono rimasti nei nostri cuori. Grazie. È sempre un'emozione tornare qui e ringrazio comunque ancora di nuovo i professori per aver pensato a me e sono veramente molto emozionata. Grazie. Grazie. Oh, buonasera. Buonasera a tutti. Eccolo qui. Buonasera. Buonasera. Allora, come vi dicevo il monologo è un momento molto importante per un attore perché è da solo. È da solo, non ha nessun aiuto, ha solo il pubblico davanti a sé. E adesso ci fai sentire quando tu appunto frequentavi la scuola, vero? Eh, sì. Quando andavo a scuola. Perché io, no? Dovete sapere che quando andavo a scuola, cioè io quando andavo a scuola... Oddio. Ma io quando andavo a scuola, vabbè, quelle poche volte che ci andavo a scuola era sempre un trauma. Io perché, giustamente, sono Maria Antoni, Maria Antoni con la M, sempre a metà, venivo interrogato sempre io. Guarda che è una cosa sistematica, che poi più o meno era sempre la stessa. Maria Antoni? Eh. Vuoi venire? Che me ne perdo io, ste cose? Vengo apposta. Maria Antoni? Eh. Argomento a piacere? Oh, ecco, bene. Io speravo proprio che lei mi facesse questa domanda perché... Io non c'ho piacere di fare un argomento, professore. Mi dica lei, perché io proprio... Allora, Maria Antoni, parlami di Camillo Benzo. Allora, Camillo Benzo era... Suggerisci. Camillo Benzo era... Camillo Benzo era... Suggerisci. Un ceso ai pagine. Come un ceso ai pagine? Gli hai tirato a tossa a lenzetti. Oddio, Camillo Benzo. Camillo Benzo era un uomo. Oddio. Almeno Benzo, poi non so se la storia cambia le cose, quindi... Camillo Benzo, quindi, era un gran uomo. E perché, Maria Antoni? Ah, perché lui era un fio... Era un fio... Era un grandissimo... Suggerisci. Lenzetti, suggerisci. Non ti suggerisco niente. Suggerisci, Lenzetti, te strappa la lingua e te c'è strozzo. Non ti suggerisco niente, tu sei cattivo con me. Mamma mia, Camillo Benzo era... Camillo Benzo era un... Magnate. Camillo Benzo era un generoso. E perché? Perché diceva, magnate che la roba si spreca qua. Mamma mia, proprio... Maria Antoni, non fare lo spiritoso. No, no, io è quello che... Cioè, che non ho studiato e che non me la ricordo tanto bene. Ha capito? Quindi, Maria Antoni, dimmi. Lui, come era soprannominato? Lui era... Suggerisci, Lenzetti. Non ti suggerisco niente, già te l'ho detto. Mamma mia, Lenzetti, te brucia la macchina. Non ce l'ho la macchina. Quando te la fai, te la brucio. Lui... Lui era... Lui era... 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 Era soprannominato... Lui era soprannominato il... Suggerisci, ti ho detto che... Ti giuro, guarda che te faccio. Non ti suggerisco niente. Lenzetti, te dò un cazzo a tappetto, te faccio la nicchietta, pa' madonna, ti ho giuro. Era un... Era... Non ti suggerisco. Camillo Benzo era detto, conte di Cavour. E perché? Perché c'era il palazzaccio a piazza Cavour e lui là faceva via entrate. E quindi... Niente, queste erano le mie interrogazioni. Andava sempre a finire così, sempre male. Mai. Mai, mai più del due, del tre. Una volta, madonna, una volta riuscì a piazzei. Ve dico che soddisfazione. Tutta la famiglia mi prese in braccio. Mi portò in giro per tutta Roma, di per papa. Anzi, già che ce sto, io me ne vado. Vado a festeggiare. Così mi avvantaggio per il prossimo sei. Grazie. Un applauso a Camillo... A Tommaso. Grazie.